questo palo ci ha messo la luce perché mi devo fare la pulliga di notte tienimi la chiave a brugola tu mi devo fare la pulliga di notte e devo andare lì sopra sul cucciolo della montagna e mi devo fare una pulliga gigante devo fare lo schizzo di 90 gradi la funzione trigonometrica, seno, coseno, b6 stile e poi devo andare a farmi la pulliga di notte e così mi serve per riferimento questo parametro di riferimento, capito? ma così ti vedono tutti, non ti fai schifo un po'? e quando stai per venire come facciamo a sapere? allora, quando vengo certo, quando vengo vi mando un messaggio voi fate scoppiare i fucchi d'artificio tutti quanti, in una volta sola è come la festa di santificio sei un pura show, è molto non hai capito un cazzo tu stai zitta, io questo lo facevo quando ero piccolo e mi divertivo così l'ho sempre fatto e lo voglio rifare non ci dite di male solo che sei un pura show mmm 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 mmm